Noi e anche altri abbiamo segnalato che c'era questa anomalia, sono venuti a controllare per provare a riparare, ma non era evidentemente riparabile, mancavano i cavi. Ecco, inizialmente cosa avete pensato dopo giorni di buio? Beh, era un guasto, evidentemente. Da oltre un mese si trovano al buio senza illuminazione pubblica. Aziende, ma anche privati della zona, hanno così deciso di segnalare il lungo blackout alla comune, in quanto non riuscivano a comprenderne il perché, che oggi è stato però scoperto. I ladri, infatti, hanno rubato quasi un chilometro di cavi. È successo nella zona industriale a retina della Carbonaia. A fare la scoperta sono stati i tecnici del comune dopo le segnalazioni dei cittadini. È stato segnalato che i lampioni della zona Carbonaia, ovviamente dopo una scertora, quando si dovevano accendere, erano di fatto spenti. Quindi abbiamo segnalato l'anomalia, sono venuti a controllare e hanno rilevato che i cavi che dovevano alimentare i lampieri stessi erano stati esportati. I ladri sono riusciti a strappare cavi tutti sottoterra, di conseguenza il blackout. Un danno importante per il comune a retino di svariate migliaia di euro. Beh, immaginiamo di notte. Qui di notte è una zona purtroppo totalmente abbandonata. Non so da chi dipende. Non sta a me dirlo, però è totalmente abbandonata se stessa.